Se entro l'autunno non arriverà l'appoggio della regione Lombardia e del Ministero Economico, Presezzi, l'imprenditore che un anno fa aveva acquistato la Franco Tosi di Legnano, trasferirà la fabbrica a Burago Molgora. La nostra posizione è che Franco Tosi rimanga a Legnano perché è un'azienda storica nata nel 1871, che aveva passato momenti difficili, ha rischiato il fallimento, è andata in amministrazione straordinaria e proprio un anno fa l'abbiamo fatta rivivere grazie a un accordo e all'impegno di un imprenditore che a oggi ha investito già qualche milione di euro sugli stabili, sul riassetto degli uffici, sul sistema informatico. Ma questo non basta. Oggi ci lavorano in Franco Tosi più di 200 persone, potrebbero rientrarne altre, quindi è una realtà importante che si sta rilanciando perché il mercato riprende, è l'unico grande produttore nazionale rimasto nelle grandi turbine idroelettriche, vapore e via dicendo, quindi sono macchine molto grandi e ha una storia per cui ha esportato in 80 paesi del mondo, alle quattro angoli del mondo conosciuto. Insomma, quindi Franco Tosi è una realtà che ha sicuramente grandi potenzialità, però è anche una realtà antica che ha bisogno di ingenti investimenti sulle parti proprio degli stabili e anche e soprattutto sui macchinari. Parliamo di macchine a controllo numerico enormi, grandi come Palazzi, che richiedono investimenti di pari entità. Tra sei mesi scadrà l'affitto e l'ipotesi di assistere al trasloco della storica dita di turbine non è così remota. Per i presezi, infatti, risulterebbe più conveniente accettare la proposta del comune di Burago-Molgora, disposto ad assegnare un terreno edificabile dove costruire un capannone, idoneo ad accogliere la Tosi. L'azienda dice che da sola non riesce o non riuscirebbe ad affrontare una dinamica accelerata di investimenti. Sarebbe intenzionata a interpretare un piano industriale che prevede 12 milioni di investimenti nel breve periodo. Per sostenerlo occorre avere un aiuto, occorre che qualcuno si trovi nei sistemi per garantire e sostenere una dinamica accelerata di investimenti. Perché bisogna voltare pagina rapidamente, bisogna diventare competitivi da subito per rimanere efficacemente sul mercato. Noi crediamo che ai livelli istituzionali una riflessione di questo tipo debba essere fatta e possa essere condotta cercando di aiutare uno sforzo imprenditoriale vero, italiano, per rilanciare e sostenere un'azienda storica che dà però occupazione ancora adesso a centinaia di lavoratori e con prospettive di sviluppo.